coloro che sono contrari al green pass sono stati etichettati dalla stampa attraverso il metodo del frame come negazionisti no vax no mask terrapiattisti complottisti cospirazionisti sono stati additati come dei pazzi da curare da sottoporre a tso sono stati considerati dei criminali dei terroristi addirittura equiparati ai mafiosi sono stati definiti sorci è stato augurato di diventare una poltiglia verde praticamente sono stati trattati come dei moderni eretici un po come capitava appunto agli eretici è capitato agli ebrei ai lebrosi ai cagot nei pirenei e alle streghe successivamente a tutti coloro che nei secoli hanno manifestato delle caratteristiche o un pensiero delle modalità diverse da quelle della maggioranza e tutto ciò ovviamente rientra all'interno della dinamica del capo respiatorio perché poi il potere il sistema capisce che si può convogliare le energie e proiettare le ansie le paure dell'intera collettività contro una persona o una classe di persone determinate scelte non a caso coloro che sono contrari al green pass e coloro che per esempio non vogliono sottoporsi al siero sperimentale gli è stato praticamente chiesto comunque è stato suggerito è stato proposto addirittura da per esempio degli esponenti politici che cosa di andarsene in giro con un cartello al peso al collo che ne identificasse la diversità in qualche modo di adottare un simbolo di identificazione per chiarire al resto delle persone che costoro sono diversi la diversità la diversità che crea il capo espiatorio e soprattutto questa dinamica che è millenaria pensiamo appunto recentemente al fenomeno delle streghe alla persecuzione anche tramite l'inquisizione è una dinamica che viene alimentata dalla paura e la paura è proprio quella tecnica aurea nell'ingegneria sociale che viene utilizzata tramite la teoria dello shock per manipolare le masse per riprogrammare la mente delle persone per soggiogare per ipnotizzare le persone perché perché la paura disorienta fa perdere i punti di riferimento fa perdere la bussola è una persona sottoposta a shock finisce un po come la vittima il prigioniero vittima di tortura può finire per accettare qualunque tipo di imposizione può finire persino per confessare anche se innocente e finisce per manifestare un atteggiamento passivo nei confronti dell'autorità e arriverà ad accettare qualunque tipo di imposizione venga proposto dall'alto anche se assolutamente sarebbe stato assolutamente inaccettabile o impopolare in un clima normale delle cose ma in una condizione di paura le persone appunto sono fragili e più questa paura viene reiterata portata avanti più questa forma di destabilizzazione può essere utilizzata per riprogrammare appunto le menti per riprogrammare le menti tramite il terrorismo mediatico in questo caso e tramite la comunicazione emotiva a ciò si aggiunga che è stata utilizzata la propaganda bellica in questo anno e mezzo da subito tutti i governi a livello globale a sprombattuto hanno ricordato che nulla sarebbe stato più come prima che non si sarebbe più tornati alla normalità e già questo in qualche modo era uno shock il dire alle persone che non sarebbe andato tutto bene e che la società sarebbe stata traghettata verso una nuova era poi ovviamente non potendo specificare così i propri intenti è stato spiegato che questa nuova era sarà green sarà solidale si è parlato di grande resette via discorrendo ma si è capito fin da subito che dietro questi proclami utopistici si nascondeva un disegno dispotico e distopico e in qualche modo come ben sappiamo ne ho parlato a lungo il grande resette è proprio questo una vera e propria distopia il tentativo di dividere la società in due macro caste i super ricchi da una parte coloro che tra l'altro avranno accesso anche a tutta una serie di privilegi e gli altri la massa indistinta spersonalizzata senza identità senza diritti senza lavoro e via discorrendo e in tutto questo in tutto ciò ovviamente la nostra democrazia è stata pian piano progressivamente erosa perché tutti i vari paradigmi della democrazia sono stati progressivamente sostituiti con dispositivi governativi basati sulla biosicurezza e sul biopotere perché la paura di ammalarsi il tabù della morte che cosa ha portato portato le persone ad accettare delle misure liberticide che non sono state accettate soprattutto così velocemente neanche nei regimi precedenti che ci hanno accompagnato che hanno accompagnato segnato la nostra storia soprattutto la storia più recente ma la paura di ammalarsi ha spinto le persone ad arrivare a barricarsi in casa a vivere come la definita anche ha ricordato anche a gamben una nuda vita biologica e poi come dicevo prima è stata utilizzata la propaganda bellica ossia si è creata una mitologia bellica da subito il virus è stato equiparato a un nemico invisibile si sono creati a livello di mitologia bellica gli eroi i medici e gli infermieri i cattivi per esempio gli asintomatici o coloro che uscivano fuori dall'orario del coprifuoco non a caso il coprifuoco è proprio una modalità tipicamente militare che è stata appunto adottata all'interno di questa forma di propaganda bellica e poi c'erano oltre appunto ai nemici le spie cioè i delatori coloro che sono arrivati a tradire anche i vicini di casa a segnalare le persone che secondo loro non stavano adottando il giusto comportamento che non stavano rispettando le regole e poi oltre a tutti costoro si è creata anche la nuova categoria dei disertori i disertori sono i novax ossia fuori dall'etichetta che è stata creata e poi cucita addosso come uno stigma a tutta una categoria di persone in realtà costoro sono coloro che hanno magari criticato un eccesso di misure liberticide sono coloro che hanno criticato e criticano per esempio l'adozione del green pass che è una misura non soltanto liberticide ma anche discriminatoria che ha portato che sta portando alla creazione di cittadini di serie B una classe di cittadini diversi mentre invece gli altri quelli tesserati potranno godere di tutta una serie di privilegi invece gli altri cittadini di serie B saranno discriminati, ghettizzati, perseguitati e poi si sta anche soffiando utilizzando il metodo del dividetimpera sull'odio sociale aizzando appunto l'odio e il disprezzo sociale tra i civax e i novax con questo metodo del dividetimpera ovviamente il potere se ne sta a osservare queste dinamiche in modo distaccato, lontano perché tanto sa che poi i cittadini si fanno la guerra da soli tra di loro un po' come i capponi manzoniana memoria di cui mi piace spesso ricordare, evocare l'immagine ecco tutto questo è avvenuto anche perché si è utilizzata questa forma di mitologia bellica perché il fatto di equiparare la crisi, la pandemia a una guerra ha legittimato, sta legittimando la creazione di uno stato di paura il fatto che questa emergenza, questo stato di emergenza non finisca più e in stato di emergenza ci viene detto si possono, si devono adottare misure straordinarie misure straordinarie che non ci siamo ancora resi conto che non soltanto peggiorano e peggioreranno ma che poi evidentemente non verranno sospese una volta che la crisi sarà finita perché magari finita questa crisi se ne paleserà un'altra come è successo per esempio con l'11 settembre dove l'11 settembre gli attacchi terroristici, le lettere all'antrace con lo shock che avevano prodotto hanno fornito un'occasione, un'opportunità e a parlare in termini di occasioni, un'opportunità è stata proprio la giunta Bush per fare che cosa? da un lato per ottenere la legittimazione morale dell'ennesima guerra preventiva la guerra al terrore dall'altro per volgere al profitto, volgere all'impresa, alla privatizzazione il cosiddetto capitalismo e disastri infine per introdurre il patriotact americano questo perché dobbiamo renderci conto che il potere da sempre induce oppure strumentalizza le crisi per sfruttarle come un pretesto, come un'occasione, come un'opportunità ed è esattamente quello che sta facendo il potere oggi sfrutta come un pretesto la pandemia per avviare uno stravolgimento della società per avviare il cosiddetto grande reset e a parlare in termini di opportunità sono stati proprio i tecnocrati a partire dal padre della teoria del grande reset che è Klaus Schwab e oltre a costoro in termini di opportunità sono stati appunto i governi a parlarne a far capire che la pandemia sarebbe stata questa crisi sarebbe stata appunto un'occasione, un pretesto per avviare un processo di stravolgimento della società che evidentemente sta andando verso una forma di rifeudalizzazione con anche tutta una suddivisione in cast dove coloro che non avranno l'accesso al Green Pass saranno considerati appunto delle specie di paria comunque saranno discriminati perché sono considerati come i nuovi eretici gli eretici del nuovo millennio coloro che vanno non soltanto denigrati vanno oscurati, censurati non hanno il diritto di dibattito non hanno il diritto né di parlare neppure di pensare di esprimere il proprio libero pensiero perché costoro potrebbero sì generare un vero contagio il contagio delle idee il contagio del pensiero critico potrebbero infettare gli altri cittadini infettare gli altri cittadini attraverso appunto il loro pensiero critico ed è esattamente quello che il potere non vuole ed è al contrario quello che invece tutti noi dovremmo fare tornare a ragionare meno di pancia liberarci, emanciparci dalla paura e dalla passività con cui abbiamo in qualche modo assistito agli eventi durante questo anno e mezzo e tornare a esercitare questa la testa la mente il pensiero critico e forse potremmo iniziare a rivedere tutto quello che sta accadendo oggi in questi giorni in queste settimane in questi mesi sotto una luce diversa asima per favore non tutto av噴 allo asima la persona esil asima Grazie a tutti.